Tu d'avretto per questo cazzo, oh Maria Bebbina, che mi hai rotto proprio il cazzo, che sto a fare, te sacrifico per Satna, e per Giuseppe e Maria, e per Angelo Apostoli, e ci sta pure Giovanni Bucciaccia, E' un pecerdo, e' un pecerdo, che stai chiamando? Che cazzo stai a dire? Perché adesso c'è notte? Perché lei racconta le storie, come stai a dire? Ma che stai a dire? Guarda, che stai a dire? Ma hai copiato? No, ma hai preso i jeans, me li ha rubati dall'armadio. Ma li jeans? I miei! No, tu non sei il cazzo, state che... Certo! Ma li ho comprati da un marocchino, a questa me ne ruba. Ma no, tu non vuoi comprare cose da roccate? Ehi, che no, che stai a dire? Ma li ho comprato le robe da marocchino, ci sono le robe da 150 euro. Ma no, ma c'è, che rispato? Cioè, li ho pagati 50 euro dal marocchino, eh? Cioè, si vede l'EVAS, si è scritto l'EVAS, cioè, insomma. Ma te voi c'è il cazzo, che non è che magari... Ma non è che magari... No, ma adesso hai fatto dell'SD da drogata de' merda. Ma magari vede che vuole l'EVAS, non te li ha rubati, pensa che li li hai prestati. Ma eh, se tu fai cosa chiede tra le morte, che spaccare la pura dura, deve sempre urlà. Ma è indietro, sono civile, come al Dio. Perché io sono una puretana. Ma tu non sai cosa c'è di dire, porca? Che è? Uno di vita. Uno di vita. Ah, ma un po' più di te, sì. Cioè, te proprio urli. Ma ma l'hai vista, sta droga? Ma sta droga adesso già. Non d'altra è una droga, se te prese per la donna. Ma che mi piglia per culo? Mi sembra di mettere... Non c'è di questo, ma non c'è di tipo... Non c'è di questo, ma non c'è di tipo... ...À brucia ancora a càà, Non c'è di questo, ma non c'è di più... No c'è di tutto, ma non c'è di tutto! No, no, no! Ah!